Alle mamme per la salute non risulta avviata alcuna procedura di accreditamento dati presso l'Airtum, l'associazione italiana Registro Tumori e così il sodalizio delle mamme venafrane torna a riaccendere i riflettori sull'inquinamento della piana. Un dossier che racconta una battaglia lunga quasi 20 anni, quella per attivare il Registro Tumori del Molise ad oggi mai realizzato. Articoli di giornale, documenti e dati per sensibilizzare le istituzioni sul tema dell'inquinamento. Nel 2004 fu istituito il Registro Tumori della Regione Molise ma ad oggi tutto è ancora fermo. Mentre la gente continua ad ammalarsi e a morire, scrivono le mamme sul loro sito internet chiedendo risposte perché affermano preoccupate, in gioco c'è la salute dei cittadini. Nel 2023 abbiamo mandato una lettera molto più circostanziata all'Airtum e dopo un altro mese non avendo risposta abbiamo mandato una PEC dove abbiamo fatto un'unica domanda. Chiedevamo di sapere se la Regione Molise ha inviato richieste di avvio della procedura di accreditamento per far sì che questi dati vengano sono verificati e nel aprile 2023 la risposta è questa che ci ha lasciato molti dubbi. Allora la Regione Molise forse non ha inviato questa richiesta. Perché non l'ha inviata? Quali sono le problematiche? Una cosa è certa che dopo quasi 20 anni la nostra Regione non è dotata di questo strumento.